Donna che è un uomo che non l'ascolta Per la gente mesta che però si sente sempre dire no Il terzo giorno di riprese ce l'hanno fatta svegliare anche a me prestissimo Questa mattina mi sono svegliato e non c'era neanche il sole Perché qui siamo un po' più ovest rispetto all'Italia Adesso siamo in... A Vinguele del Marquest dell'Argentera Mi preparo a girare i miei take Vado a mettere le mie scarpe, a termini qualcosa di caldo perché fa un po' freschiero Poi incontro con Cosimo e vediamo cosa bisogna fare Questo è il mio cibo Prima immagine di backstage È arrivata la telecamera dall'Italia Sembra un video tristissimo così con uno che si medica a una cista Guarda questo è un bel retroscena eh Vabbè ma con abili truccatori, occhiali da sole e chirurghi plastici Riusciremo a portare a casa così Sì, il guida della vagina Io prendo il collirio, ricerco il collirio Poi a te mi arrivo a zombo E nonostante questo il nostro morale è alle stesse Io vado giù e cammino di qua Non so se ne riesco Per chi è sul baratro però Guarda in basso e dice no Ce l'hai un attimo per me Perché c'è troppo bisogno di aiuto Di aiuto, di aiuto Ce l'hai un attimo per me Perché c'è troppo bisogno di aiuto Di aiuto, di aiuto Tanto un attimo per me Perché c'è troppo bisogno per me Eh, mettono lì e mi dicono Cammino di aria lì Vabbè Eh, tu Mangiavamo sempre sul set di questo lì Hai visto? Non ci fanno mancare il cibo Because of the distance Oh, 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 oh Ce l'hai un attimo per me Perché c'è troppo bisogno di aiuto Di aiuto, di aiuto Ce l'hai un attimo per me Che figlio, bellissimo Bravo Bella Allora, minuti Stiamo qua, tu vai Non ti dico Non ti dico Non devo fare niente Non devi camminare come bravo Però se ne dice lui E via vai Perché c'è troppo bisogno di aiuto, minuto dopo minuto il mondo va...